Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca e con il delitto che si è consumato nella tarda serata di ieri ad Alba Adriatica. Ha perso la vita un giovane di etnia Rom, il 22enne Manuel Spinelli. Per lui fatali due coltellate che sono state inferte da un 27enne di origini albanesi, Farim Koldasci, attualmente ricoverato all'ospedale di Teramo. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Vediamo. E' piantonato in ospedale a Teramo, Farim Koldasci, 27 anni di origini albanesi, accusato dell'omicidio volontario di Manuel Spinelli, 22 anni appartenente ad una storica famiglia Rom di Alba Adriatica. Il ragazzo è stato raggiunto all'occhio e al cuore da due fendenti sferrati dal 27enne ieri sera, attorno alle 23.30, al culmine di una rissa avvenuta nei pressi della taverna Wolf di Alba, all'incrocio tra Viale Mazzini e Lungomare Matteotti. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, con i filmati già al vaglio degli investigatori, che saranno inseriti negli atti dell'inchiesta condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Teramo e dalla compagnia di Alba Adriatica e coordinata dal pubblico ministero della procura di Teramo, Davide Rosati. Alla base della scazzottata, probabilmente vecchie ruggini per questioni di cuore. Una donna contesa, forse, già fidanzata di Spinelli, poi diventata ragazza di Koldalsci. Secondo una prima ricostruzione, l'incontro tra i tre Rom che stavano cenando nel locale e l'albanese sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale. Koldalsci stava percorrendo in auto il tratto di strada nei pressi del Wolf con a bordo la fidanzata. Forse qualche parola di troppo e i due vengono alle mani. Ne scaturisce una rissa che coinvolge anche gli altri amici di Spinelli. Koldalsci a quel punto estrae il coltello e sferra i due colpi fatali. Infine fugge, prima di essere rintracciato dai carabinieri e condotto al pronto soccorso di Teramo per le lesioni riportate. Per Spinelli, invece, non c'è stato nulla da fare, nonostante la corsa verso l'ospedale di Giulianova. E ora ci spostiamo all'Aquila con la visita quest'oggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha partecipato alla consegna delle onoreficenze per i soccorritori che sono intervenuti nel corso del terremoto del centro Italia ad Amatrice e anche durante le operazioni di salvataggio dopo la valanga killer di Rigopiano. Oltre ai riconoscimenti individuali, il Capo dello Stato ha anche decorato la bandiera militare della Guardia di Finanza. Stamattina all'Aquila, cerimonia militare celebrativa del 243esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. L'evento alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di Coppito si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Ministri dell'Economia e della Difesa Piercarlo Padoanne e Roberta Pinotti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Corpo d'Armata Giorgio Toschi, del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Rosibindi e di numerose altre autorità civili, militari e religiose. È la terza visita del Capo dello Stato al capoluogo abruzzese dopo quella istituzionale per l'inaugurazione dell'anno accademico e quella privata alla Camera Ardente delle Vittime dell'incidente dell'ericottero del 118 nel gennaio scorso. Il Presidente della Repubblica ha decorato la bandiera di guerra della finanza con una medaglia d'oro al valore civile, 11 riconoscimenti individuali consegnati ai militari, tra cui 4 medaglie d'oro al valore civile per gli uomini che sono intervenuti a Rigopiano. Altre medaglie d'oro sono andate ai finanzieri che hanno salvato gli abitanti di Campo Tosto e che hanno operato da matrice. Proprio il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale Toschi, nel suo intervento, ha voluto sottolineare il forte valore simbolico della scelta di celebrare questa cerimonia proprio nel capoluogo abruzzese. Qui, ha detto il Generale Toschi, si formano le colonne portanti della nostra struttura organizzativa, ma ci consente anche di esprimere ancora una volta la commossa solidarietà del corpo alle popolazioni del centro Italia, colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Anche in occasione degli eventi più recenti, a concluso da questo tempio della solidarietà, sono partiti i soccorritori. A chiusura della cerimonia, poco prima che il Presidente Mattarella lasciasse il palco delle autorità, il nuovo elicottero delle Fiamme Gialle ha fatto un sorvolo del luogo dell'evento e durante il passaggio aereo un finanziere ha sventolato per alcuni metri la bandiera tricolore in onore del Capo dello Stato. Quanto visto stride un po' con quanto sta accadendo nelle ultime ore, perché sta suscitando tantissime polemiche e reazioni indignate. La locandina di presentazione del convegno in programma per domani all'Università di Teramo dal titolo, dalla grande calamità, una valanga di opportunità. Un titolo che definire inopportuno e riduttivo è il riferimento, è quanto accaduto a Rigopiano. Sicuramente la locandina verrà cambiata in fretta e furia, come quando i bambini fanno le marachelle e cercano di nascondere la malefatta per evitare la punizione. Il titolo del convegno in programma domani mattina all'Università di Teramo è quantomeno fuori luogo, se vogliamo essere buoni, per non dire che è offensivo e stupido. Chi ha vissuto quei giorni da cronista, da soccorritore, da uomo delle istituzioni oppure da semplice cittadino abruzzese d'italiano incollato ai TG per avere notizie, guardando questa locandina e ricordando l'ansia, la gioia per i bimbi estratti vivi e la disperazione delle ore successive alla valanga che si è portata via 29 persone sotto le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola dovrebbe indignarsi. A maggior ragione se si pensa che questo titolo, corredato da esemplificativa foto di sfondo, è stato partorito da menti che magari ci hanno anche ragionato su studiato, elaborato, costruito e poi impresso su carta, magari con l'imprimatur dei partner dell'iniziativa nell'ordine Carabinieri Forestali, Università di Teramo, Regione Abruzzo, Fondazione Gran Sasso e Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, IZS Caporale e Accademia Italiana di Scienze Forestali. Al tempo di internet e dei social le informazioni corrono veloci, la locandina è diventata virale sulla rete e sicuramente già rimbalzata nel telefonino dei familiari delle vittime che ogni mese, da quel maledetto 18 gennaio, si ritrovano nei luoghi della tragedia per stare insieme, per ricordare e per darsi forza e per difendere il ricordo dei propri cari, a cui sono disperatamente aggrappati. Un titolo sbagliato nella sua costruzione ma anche nel suo significato, quale opportunità ci può mai essere da un evento che ha lasciato dietro di sé morte e distruzione? Ricorderete tutti la vignetta di Charlie Hebdo sulla valanga di Rigopiano, tutti a stracciarsi le vesti, giustamente, e ad inveire contro l'insensibilità dei cugini d'Oltralpe, peraltro provati dagli attacchi terroristici. Noi però siamo riusciti a fare anche di peggio perché abbiamo l'aggravante della ferita ancora aperta, delle inchieste ancora in corso, delle responsabilità ancora da accertare. A questo punto, come il bambino di qui sopra, sarebbe bene che chi ha pensato questa locandina venga fuori con il dito alzato, chieda scusa e riceva una sana sculacciata da bravi genitori, quali tutti dovremmo essere. E come detto, tante le reazioni indignate, tra queste registriamo una nota del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Non sarò presente al convegno, dalla grande calamità una valanga di opportunità previsto domani a Teramo, poiché non risultano inviti in questo senso alla mia segreteria né richieste di patrocino alla struttura di presidenza. Tra l'altro, domani sarò impegnato a Roma in una serie di appuntamenti istituzionali calendarizzati da tempo, primo tra i quali quello in conferenza delle Regioni dalle ore 8.30, a cui seguiranno un incontro con i vertici di Enel alle ore 12.30 e la partecipazione alla cabina di coordinamento per la ricostruzione alle ore 15. Stigmatizzo il titolo dato all'incontro che mantiene sanguinante una ferita dolorosissima. Le parole a volte sono sassi, anche se involontari. Questo scrive appunto nella nota il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. E ora appunto ci spostiamo a Teramo, ma per parlare della crisi in comune, dopo mesi appunto di fibrillazioni al Comune di Teramo per una giunta che non aveva più i numeri in Consiglio Comunale, il Sindaco Brucchi vara un nuovo esecutivo, probabilmente identico a quello precedente. Le uniche novità, 8 assessori al posto di 9 e la carica di Vice Sindaco che passa da Mirella Marchese ad Alfonso Dodo di Sabatino Martina. Il servizio. Eccola la quarta giunta in tre anni varata dal Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Per chi si aspettava novità e cambio di passo, la delusione è legittima. 8 assessori invece di 9, tutti riconfermati, ad esclusione di Silvio Antonini che di fatto non aveva mai iniziato. La carica di Vice Sindaco passa da Mirella Marchese a Dodo di Sabatino che assorge così in pectore a futuro candidato sindaco del centrodestra. Dopo mesi di immobilismo politico spesi a discutere su come rinnovare e ridurre a sé un esecutivo che non veniva più apprezzato e non aveva più i numeri in Consiglio Comunale, oggi si torna al punto di partenza con gli stessi assessori alle stesse deleghe o quasi. Mirella Marchese, Caterina Provisiero, Franco Fracassa, Roberto Canzio, Eva Guardiani, Mario Cozzi, Valeria Misticoni e Dodo di Sabatino, Vice del Sindaco Brucchi. Insomma, squadra che vince non si cambia. Nuovo Vice Sindaco di Teramo, allora come si apre questa giornata? Si apre come si erano chiuse quelle dieci giorni fa, al lavoro, nel mio ufficio, nella problematica quotidiana e nell'attivismo quotidiano che ci deve contraddistinguere, in un momento in cui credo sia opportuno più fare che parlare. Lei ha la delega alla ricostruzione, ripartirà questa ricostruzione? Io sulla ricostruzione ho mosso già alcune perplessità, ovviamente c'è da stimolare gli uffici preposti, in particolare l'USR e poi il Governo centrale. Lei teme una sfiducia? Ma guardi, il malpancismo ormai è un mare diffuso, le questioni sono variegate e questo è un mandato molto sofferto, anche molto complesso per come è stato gestato, per quelle che erano probabilmente le aspettative, anche le legittime ritrosie o rivendiche di chi che sia, è verosimile che possano esserci ancora momenti di fibrillazione. Fiducia o sfiducia che sia, lei probabilmente sarà il prossimo candidato sindaco del centro-destra? Ma guardi, questa è una indiscrezione che lascio fare a voi giornalisti, la recepisco per quella che ho davanti a me, tanto lavoro da fare, il resto non conta, il resto conterà e soltanto nel momento in cui qualcuno avrà intenzione eventualmente di designarmi. Io ad oggi faccio quello che posso e lo faccio al meglio, provo a farlo al meglio. Cosa faranno ora i tre dissidenti che hanno tenuto in scacco il sindaco Brucchi per due mesi con la richiesta di una giunta a sei che comprendesse anche figure tecniche? Lo sapremo presto. Per il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Maurizio Verna, questa soluzione di nuova, vecchia giunta è davvero una barzelletta, mentre per Fabio Berardini, consigliere del Movimento 5 Stelle, semplicemente una vergogna. L'ipotesi di riconversione industriale dello stabilimento Carraro Drive Tech di Poggio Fiorito, in provincia di Chieti, è stata al centro dell'incontro che il vicepresidente della giunta regionale, Giovanni Lolli, ha avuto con i vertici dell'azienda e i rappresentanti sindacali. Dalla riunione è emersa la volontà di portare avanti un progetto condiviso di riconversione industriale e trasformazione delle attività svolte presso il sito produttivo di Poggio Fiorito, da lavorazioni meccaniche in attività logistiche di trasporti. E' un passo avanti importante, ha commentato il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, che con Lolli segue da vicino la vicenda dell'avvertenza Carraro. Ci troviamo di fronte a una strada nuova di riconversione produttiva dello stabilimento e quindi di tutela dei posti di lavoro. Questa strada è percorribile soprattutto grazie alla scelta della giunta regionale, ha sottolineato D'Alessandro, di inserire Poggio Fiorito e Canosa sannita tra le aree di crisi, cosa che consente di accedere a finanziamenti importanti e a contratti di programma per le imprese che operano o che intendono investire in queste aree. Chiaramente la scelta di Poggio Fiorito è nata con l'obiettivo di tenere agganciato al territorio la Carraro, scongiurandone la chiusura. Quella di Canosa per offrire strumenti aggiuntivi a potenziali imprenditori che volessero investire sullo stabilimento di Alifluids. Le parti si sono riservate di svolgere ulteriori approfondimenti relativamente al supporto della regione Abruzzo in termini di formazione e riqualificazione dei lavoratori, nonché l'eventuale apporto in attività di ristrutturazione dello stabilimento. I rappresentanti sindacali si sono detti d'accordo con il percorso ipotizzato. Le parti si sono riconvocate entro la prima settimana di luglio per una definitiva formalizzazione. 11.000 studenti abruzzesi alle presa con la prima prova dell'esame di maturità, come di consueto smentite le previsioni della vigilia. Ecco le tracce con cui si sono dovuti confrontare i maturandi. La prima prova della maturità 2017 che ha visto circa 11.000 studenti abruzzesi alle prese con l'ultimo atto prima del percorso universitario ha come di consueto smentito le previsioni della vigilia riguardo le tracce. Dunque niente 150esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello o i 25 anni dalla strage di Capaci. Per i temi di attualità le previsioni spaziavano dal testamento biologico alla Brexit e ai migranti. Niente di tutto questo. Dopo l'errore grammaticale del ministero finalmente stamattina disvelate le prove a cui si sono sottoposti i maturandi. La prima traccia, quella per la tipologia A, l'analisi del testo, ha proposto un autore insolito, Giorgio Caproni, poeta e critico livornese del Novecento, poco o per nulla studiato. Bellissima la poesia scelta, versicoli quasi ecologici contenuta nella raccolta res a missa. L'autore descrive l'azione negativa dell'uomo nei confronti della natura, mare, alberi, vento e animali e accusa chi trae profitto dall'uccisione delle bestie. Per il tema storico spazio al cosiddetto miracolo italiano con gli studenti che sono stati invitati a riflettere sull'Italia del dopoguerra e gli anni del boom economico tra 50 e 60 con citazioni da Piero Bevilacqua, da lezioni sull'Italia Repubblicana e da Paul Ginsberg, da Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Nuove tecnologie e lavoro, la traccia del saggio breve in ambito socio-economico. La riflessione parte dal testo Allarme ONU, i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano di Enrico Marro, pubblicato sul Sole 24 ore. La natura tra minaccia e idilio in arte e letteratura è invece la traccia uscita per il saggio breve artistico letterario. Tra i materiali forniti i quadri di William Turner e Pellizza da Volpedo. Tra gli allegati anche poesie di Pascoli, di Montale e di Leopardi e un testo di Ugo Foscolo dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. Questione terremoti, catastrofi naturali e appunto ricostruzione è stato l'unico a rispettare parzialmente i pronostici che indicavano tra le tracce possibili anche i terremoti. Infatti per l'ambito storico-politico l'argomento è disastri e ricostruzione. Anche in questo caso le commissioni hanno proposto una serie di articoli da cui partire per trattare l'argomento. Uno scritto di Macchiavelli da Il Principe, un articolo di Giorgio Boatti dalla Repubblica e uno di Alvaro Gonzales Palacios da Il Sole 24 Ore. Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro è il titolo del saggio breve in ambito scientifico. Il progresso con l'articolo di Edoardo Boncinelli per migliorarci serve una mutazione pubblicato sul Corriere della Sera al centro del tema di attualità. Ai maturandi è stato chiesto prendendo spunto dall'estratto di Boncinelli di analizzare il progresso nella società attuale in tutte le sue forme. I ragazzi hanno dovuto scegliere un argomento tra le cinque tracce e hanno avuto sei ore per svolgere il tema. L'analisi di un testo letterario oppure il saggio breve o articolo di giornale, il tema storico o il tema di attualità. Qualche ora per riprendere fiato, poi il secondo appuntamento. Domani di nuovo alle 8.30. Il secondo scritto è diverso a seconda degli indirizzi. Latino per i licei classici, matematica per gli scientifici, lingua straniera per i licei linguistici e così via. La durata è dunque per tutti di sei ore, tranne che per i licei musicali, coreotici e artistici dove la prova si svolge in due o più giorni. Si chiudono le prove scritte lunedì 29 giugno con il cosiddetto quizzone, diverso per ciascuna scuola. Infine l'ultimo step prima delle vacanze, il colloquio orale che si concluderà come sempre entro la prima metà di luglio. Ed ora a Pescara dove il capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Marcello Antonelli, si chiede alla giunta Alessandrini regole certe su bandi di gara e appalti comunali. Marcello Antonelli, chiedete al comune di Pescara, alla giunta Alessandrini, regole certe per quanto riguarda i bandi di gara, gli appalti e tutto quello che concerne l'attività in questo senso dell'amministrazione comunale. Perché? Perché riteniamo che i principi di equità, rotazione degli incarichi, imparzialità, trasparenza, rispetto delle regole siano imprescindibili. Abbiamo ritenuto che in questi anni ci sono state più volte proroghe tecniche per contratti ampiamente scaduti che non erano proroghe tecniche in realtà, ma soltanto il frutto delle latitanze, delle inerzie magari delle strutture dirigenziali interessate. E su questo l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, ha avuto molto a ridire. Così come abbiamo assistito per esempio al conferimento di incarichi sempre agli stessi soggetti, così come abbiamo potuto verificare che quasi sempre sono le stesse ditte a lavorare per le somme urgenze o per gli affidamenti diretti. Insomma, uno scenario assolutamente non piacevole, non positivo. Noi riteniamo che si debbano ridistribuire una serie di regole e di indirizzi per rendere più trasparenti le attività del Comune di Pescara per quanto riguarda il conferimento di incarichi professionali, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, forniture e prestazioni in genere. Un lavoro molto articolato che sottoponiamo da oggi al Consiglio Comunale, credo già tra qualche settimana il Consiglio Comunale potrà esprimersi. Ci auguriamo che ci sia la maturità per comprendere che ormai su questi temi non si può scherzare. In un momento di grandi crisi economiche noi abbiamo l'obbligo di garantire imparzialità e trasparenza. E un'altra delle nostre proposte che abbiamo calato è quella di invitare solo le ditte che hanno la sede nella Regione Abruzzo alle procedure negoziate. Dove sono le procedure aperte ovviamente possono partecipare tutti, ma per importi inferiori riteniamo che i soldi dei pescaresi, perché noi gestiamo i soldi delle tasse versate dei pescaresi, debbano ricadere in questo territorio. In questa maniera crediamo di fare un ottimo servizio a favore del sistema delle imprese e anche quindi della salvaguardia dei livelli occupazionali. 40 sindaci di altrettanti comuni del BIM Sangroventino hanno firmato a Roma l'accordo transattivo con Acea per l'impianto idroelettrico di Sant'Angelo di Altino, sempre nel Lecchietino. L'accordo prevede il pagamento dei sovracanoni con il ribasso del 20% delle somme dovute. Sono una quarantina i comuni del bacino imbrifero montano del Sangroventino che hanno accettato e sottoscritto a Roma con Acea l'accordo transattivo per i sovracanoni arretrati delle annualità dal 2013 al 2016 derivanti dall'impianto idroelettrico di Sant'Angelo del comune di Altino, di cui è concessionaria la multiutility. L'accordo è arrivato in conclusione con un'accelerata negli ultimi mesi dopo aver affidato la trattativa al sindaco di Fallo Alfredo Salerno. Acea ha proposto il pagamento con la riduzione del 20% delle somme dovute che i sindaci dei comuni interessati hanno accettato, con il duplice obiettivo di evitare il prolungamento del contenzioso e i costi aggiuntivi per spese legali alle casse pubbliche già in sofferenza. E così i sindaci delle piccole comunità delle aree interne tornano a casa soddisfatti, ognuno con un tesoretto diverso e proporzionato al coinvolgimento del proprio territorio, dai 160 mila euro di Villa Santa Maria ai 15 mila di archi. In cima alle priorità degli interventi c'è sicuramente la viabilità, compromessa a causa degli ultimi eventi calamitosi. Dalla regione Abruzzo, commenta in particolare Andrea Lannutti di Gesso Palena, stiamo ancora aspettando i fondi per le calamità del 2013 su progetti presentati e approvati. Altri sindaci potranno investire anche nel verde pubblico per servizi al turismo e per efficientare il sistema della pubblica illuminazione. Uniti per sconfiggere la contraffazione delle eccellenze terramane, il titolo del convegno che si terrà giovedì 22 giugno al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo, organizzato da Casa Artigiani Teramo in collaborazione con Consorform e Camera di Commercio. Il seminario coinvolgerà aziende del territorio, dal piccolo artigiano alla grande impresa. Casa Artigiani Teramo in collaborazione con Conf Lavoro, Consorform e Camera di Commercio di Teramo organizza giovedì 22 giugno alle 17 al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo un seminario rivolto alle imprese locali per combattere il fenomeno dell'Italian Sounding, ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per commercializzare prodotti non riconducibili al nostro paese. L'incontro è diretto ad illustrare gli strumenti di certificazione del vero Made in Italy a sostegno dello sviluppo economico e organizzativo delle imprese locali. L'Italian Sounding rappresenta infatti la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare. Inoltre la manifestazione intende valorizzare il territorio teramano sotto molteplici aspetti, storia della regione e riconoscimento delle eccellenze locali, soprattutto nei quattro settori tradizionali noti come le 4A, abbigliamento, agroalimentare, arredamento e automobili. Settori che rappresentano i caratteri strategici del nostro territorio, in cui ancora oggi si possono evidenziare centri di eccellenza e successo imprenditoriale. Il seminario coinvolgerà le aziende della provincia di Teramo dal piccolo artigiano alla grande impresa. Come relatori interverranno Flaviano Montebello, coordinatore di Casa Artigiani Abruzzo, Albano Viscioni, presidente di Conflavoro Teramo, Adriano Ippoliti, esperto in strategie di marketing e sviluppo aziendale e Franco Tempesta, docente di marketing e commercio internazionale. Saranno presenti anche rappresentanti regionali, provinciali, comunali, camerali di APA ed imprese certificate. Ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara, molto attivo sul mercato. Stamani un incontro con dei dirigenti della Fiorentina da parte degli emissari del Delfino per parlare del difensore croato Riccardo Bagadur, di proprietà della Fiorentina, ma che ha giocato nelle ultime stagioni in prestito nella Salernitana e nel Benevento. Però i nomi caldi restano quelli di Mamadou Koulibaly in uscita, si è trovato un'intesa di massima con l'Inter e poi di Simone Andrea Gantz, sempre più vicino a indossare la maglia bianca-azzurra. Vediamo. Manca davvero poco alla formalizzazione dell'accordo che porterà all'Inter il gioiellino del Pescara Mamadou Koulibaly. Ieri un nuovo incontro tra le parti per la definizione dei dettagli tra i due club. Koulibaly andrà all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 4 milioni di euro, la cifra con la quale il presidente Sebastiani effettivamente valuta il giocatore senegalese. Dall'altra l'Inter è pronta a girare in rival all'Adriatico in prestito secco il centrocampista della primavera classe 98 Marco Carraro. Nelle prossime ore sarà la volta dell'agente di Koulibaly, Donato di Campli, che incontrerà il club nerazzurro per mettere a posto altri dettagli. Ma l'asse Pescara-Inter è caldissimo. Venerdì dovrebbe essere il giorno della firma di Andrea Palazzi, centrocampista classe 96. In questo caso la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto per il Pescara e contro il riscatto per l'Inter. E si attendono ulteriori sviluppi sul fronte del terzino Federico Vaglietti, altro piccolo asso della primavera di Stefano Vecchi. Gianluca Caprari invece il prossimo anno potrebbe indossare la maglia della Sampdoria. L'Inter, proprietaria del cartellino dell'attaccante romano, potrebbe inserire Caprari come contropartita tecnica nella trattativa che porterà alla corte di Luciano Spalletti, il difensore blucerchietto Skriniar. Questione Gans, il Verona non riscatterà l'attaccante di proprietà della Juventus, anche se ci sarà comunque da aspettare la fine di questa giornata con la scadenza del termine per le opzioni, dopodiché il Pescara potrà formalizzare l'accordo. Ieri intervenuto ai microfoni di Sky ha parlato anche il papà di Simone Andrea, Maurizio Gans. Per lui l'importante è giocare, ha detto l'ex attaccante di Inter e Milan. Quest'anno ha potuto farlo poco, ma mi auguro che l'anno prossimo possa trovare più spazio. Gans potrebbe legarsi al Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma è noto che la Juventus vorrebbe cedere il cartellino e potrebbe eventualmente agevolare le modalità di pagamento al Pescara, che nel caso acquisirebbe il centravanti a titolo definitivo. Tra gli altri obiettivi per l'attacco c'è un ex come Pierluigi Cappelluzzo, ma sul centravanti di proprietà del Verona ci sono anche Brescia e Ascoli. E ora in Lega Pro con il Teramo, con il nuovo staff tecnico già all'opera. Uno dei problemi più importanti sarà smaltire i contratti in esubero, ma nei giorni scorsi il presidente Luciano Campitelli è stato molto chiaro ai nostri microfoni. Chi non vorrà rescindere andrà fuori rosa. Presidente Campitelli, l'ha definito questo l'anno zero e se vogliamo per il Teramo è un po' una novità ripartire con un obiettivo da costruire strada facendo, con Asta e Repetto. Se non ripartivamo da questo obiettivo si sono visti i risultati negli ultimi due anni, quindi ci conveniva ripartire da questo obiettivo, ricostruire, cercare di ritornare a essere umili, a essere vogliosi, a essere grintosi, avere la voglia di vincere le partite e non pensare solo al contratto, perché qui negli ultimi due anni si è pensato al contratto e non a un progetto. Oggi pensiamo al progetto. Ha parlato in conferenza stampa, ha detto che probabilmente andranno via tutti quelli che c'erano l'anno scorso o comunque la stragrande maggioranza ce la farà il Teramo a fare un'operazione del genere, è molto complicato. Ma io penso che chi non andrà via andrà fuori rosa e quindi vuol dire che starà un anno a spasso, verranno pagati, ma sicuramente chi non andrà via io in prima squadra non li porterò sicuramente, perché qui se non si pensa a essere ancora padroni del nostro Teramo a questo punto noi ci possiamo ritirare in convento. Quindi, ripeto, insieme all'allenatore sceglieranno i calciatori che loro vorranno per creare una squadra, come ha detto lui, di persone giuste, con la giusta esperienza e tanti giovani. Questo sarà l'obiettivo, ma per tutte quelle persone che noi riterremo che non c'è più posto in questa società, sicuramente in un modo o in un altro entranno via. Ha parlato di un piano triennale, bene, Luciano Campitelli dove si aspetta che sarà tra tre anni il Teramo? Facciamo questo primo anno e poi vediamo quanti elementi ci possono volere per ricreare una squadra dove in tutti i settori sia pronta e poi da lì si vedrà. Noi quest'anno non dobbiamo sbagliare, quindi siccome non dobbiamo sbagliare cercheremo di fare il massimo e ricreare, ripeto, una banda di giovani che vogliono correre perché tanto qua si vince col correre, non si vince con le chiacchiere, non si vincono solo con i campioni, se ne dobbiamo mettere uno, due o tre noi li metteremo, ma poi ci vogliono gente che corre e basta. E allora provo ad interpretare io il suo discorso, tra tre anni Campitelli si immagina di realizzare di nuovo quel sogno che ha tenuto per due anni chiuso in un cassetto? Io non mi immagino niente, immagino che quest'anno dobbiamo salvarci in fretta perché quello che ho passato quest'anno non lo auguro a nessuno. A proposito di Teramo si è chiuso il primo anno di collaborazione tra la società di Via Ierelli e la FC Bonolis, il bilancio del presidente della società che gestisce il settore giovanile, Massimo D'Aprile, che dà anche un giudizio sul nuovo corso in casa Biancorossa. Vogliamo fare un primo bilancio di questa partnership che ormai è in atto da un po' con la Teramo Calcio sul settore giovanile? Per noi questo è il primo ciclo, la prima stagione 16-17, penso che sia, come ho sempre detto, una collaborazione intelligente da ambo le parti perché il Teramo si è privato di un ramo di azienda, chiamiamolo così, che forse è il più impegnativo per tanti aspetti perché ha a che fare con i bambini, con le famiglie e anche per quanto riguarda i numeri nostri perché in ogni caso abbiamo 250 bambini, il che vuol dire 250 famiglie con un potenziale di mille persone, quindi il lavoro che sono fatto è un lavoro ottimo, questo ci è concesso grazie penso alla qualità degli istruttori, la qualità dello staff, la qualità del personale, la qualità della segreteria, degli uffici di lavoro, del marketing, della comunicazione, del commerciale. È un'area abbastanza ampia che arrivati agli 11 anni in ogni caso donna tutto quello che ha la Teramo Calcio e questa la cosa mi fa enormemente piacere. Parlando proprio di Teramo Calcio, tu da ex capitano e direttore generale Biancorosso, come valuti gli arrivi di Repetto e di Asta? Penso che sia sbagliato quindi è giusto correggere gli errori e secondo me una valutazione fatta oggi è veramente approssimativa perché bisognerà aspettare non solo il campo, perché io penso che il campo in una società sia la parte che vedono tutti, ma dire al campo ci sono tantissime dinamiche, tantissime situazioni che si muovono, poi il campo penso che sia il risultato di tutto quello che si muove dietro, quindi penso che in ogni caso il Teramo abbia bisogno come ogni società di ristrutturarsi, come avviene ogni società a fine anno, ristrutturarsi bene, programmare, programmare con intelligenza e con cognizione di causa. Se queste cose vengono fatte io penso che una piazza come Teramo, il Lega Pro possa fare sempre bene. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo i prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23, grazie per averci scelto.